ciao amici e amiche e amiconi oggi andremo a fare delle cose veramente veramente fighe andremo a fare le singulari ma queste singolari andremo a fare in un modo un po particolare allora per fare queste cose particolare ci serve questo qua allora facciamo così no mettiamolo in alto crafting il nato crafting facciamo prima ma facciamo questo esattamente poi questo qua e olle lo mettiamo in alto crafting lo mettiamo qua sotto e parappa olle fatto poi ho fatto un'altra cosa siccome c'è un problema qui con il creare questo coso qua ho messo questo craft che avevamo usato qualche episodio fa allora intanto andiamo a fare questo come si chiama mini tua sorella ce ne servono 4 si 4 start vediamo è velocissimo proprio a fare questo ci serve un sacco un sacco di spazio quindi andiamo a fare il builder build eccolo qua facciamo start ce ne serviranno confirmo facciamono 4алы e siamo a posto ci servirà per il burger rf no rtf ok eccolo eccolo ti serviranno sì facciamo start ne facciamo anche nobby tanto per l'iniziativa piazzare giusto 1 e poi dobbiamo vedere quale apre crede fare se questo o questo qua vediamo ok facciamo questo qua con un fortuna le facciamo questo e olè dovrebbe aver tutto vediamo un po shovel si l'ho messo in auto crafting e quindi dovrebbe aver tutto vediamo 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 allora mettiamo questo coso qua in auto crafting le facciamo tac che facciamo rtf no r rf ok facciamo no ecco qua con l'infortuna facciamone uno facciamo start vediamo un po quanto ci mette un l'ha fatto subito 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 perfettissimo perfettissimo che serviranno altri di questi spectre vediamo un po c'è lo spec e anche poter eccolo qui poi ci servirà una small small eccola qua perfetto dovremmo aver tutto no ci servirà un controller eccolo qua ok dovremmo aver tutto drawer eccolo qua ce ne facciamo un 60 quattrino non ci serve 64 è per un senso vuole sempre buona verci allora questo il querrio andiamo a mettere vediamo un po dove lo possiamo mettere io direi che qua va più che bene allora facciamo tatacchete allora prendiamo anche la nostra illumination wand e olè facciamo tatacchete e andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ancora avanti andiamo più avanti possibile anche se sta strada qua potevamo farla 3x3 e allora facciamo una modifica facciamo una modifica facciamo tatacchete e facciamola tutta al 3x3 o molto molto meglio no olè effetto perfettissimo perfettissimo allora ci servirà il builder la ceste qua sopra e poi andiamo a fare un'altra cosa allora eliminiamo questo facciamo così facciamo mettiamoci questo e mettiamo tanto quasi sarà solo cobblest lo mettiamoci anche uno di questi e siamo a posto diamo energia intanto a questo cosetto qua penso che uno non gli basterà né oggi e né mai quindi facciamo un altro po di spazio e qua gliene mettiamo un altro e questi sarebbe quelli che danno energia vediamo che gli stanno dando energia perfettissimo perfettissimo adesso prendiamo questo coso qua allora che è che in caltezza sia lo siamo ad altezza 98 ok ok siamo all'altezza 98 allora quanto altro dobbiamo no non eliminiamo niente a terra questo 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 e questo le 98 all'altezza ok poi poi dimensione facciamo 15 no facciamo 20 di 120 ciao ma che cacchi si è impazzito 20 20 98 cosa che questo è sbagliato però possiamo sempre vederlo perché abbiamo sbagliato qua dobbiamo fare così qua invece 98 facciamo 97 no 98 no 100 facciamo 100 100 12 103 dai 103 20 20 olle facciamo tattacchete e vediamo un po non qui ok raga sta funzionando vediamo no solo che ho sbagliato qua allora deve fare tattacchete qua solid ok si funziona start funziona raga funziona e come si funziona giusto un attimo a capire come va ma funziona abbiamo fatto pure un'entrata che è sempre comoda però qua ci servirà della stone ok ha fatto stop siamo a posto allora prendiamoci della stone eccola qua 64 penso che basta ne avanzano mettiamo anche in un poco di luce da qua qua ci ha fatto giusto qualche errore giusto qualcuno ok finiamo qui di ripararle perché senso fa un poco schifo fanno un poco e tanto schifo e fortuna che noi abbiamo la nostra amica wound però se con questo è fai danni le hai fatti cioè avete capito no allora fai tattac tattac tattacchete e abbiamo fatto olle mettiamo la luce luce di qua tutte le luci in poche parole in poche parole in poche parole ok primo messo l'altro lo mettiamo qua ma ovviamente dobbiamo rigirarlo prendiamo questo se si gira mi fa un favore girati 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 oh oh non si gira raga verso di me ok grazie mille ma se voi fate così cliccate vedete subito quell'altro dove piazzarlo ma se lo mettete qua e poi vi divertirete a rigirarlo rigirarlo poi lo facete così e ovviamente vi dice che dovete metterlo qua allora rigiriamolo rigiriamo perché poi vedrete come si vederà quando è completo guardate qua che figata guardate qua che figata guardate mamma mia perfetto adesso vediamo come craftare questo ci serve un blocco di redstone un blocco d'iron una redstone e qualche redstone per terra ci sono da 16 ok ma perché sono dalla che ce l'ho qua boh iron eccolo qua ce ne prendiamo ce ne prendiamo un paio facciamo 16 ok redstone 64 direi che va bene facciamo tataccate tataccate e tataccate guardate qua che figata si sta costruendo guardate ecco i blocchi che ci servivano mo ne faccio un paio raga minimo minimo uno stack ok facciamo l'ultimo olè ho capito ah dobbiamo far così così se lo prende olè eccoci qua l'ultimo blocco che ci serviva oh perfettissimo perfettissimo allora facciamo così e vediamo come farlo allora il tini che sarebbe quello più quello schifoso facciamo uno small allora 26 perché dobbiamo fare un 3x3 e un blocco d'arono al centro perfetto non è niente di più semplice facciamo uno però dobbiamo farlo rialzato le 1 2 3 giusto si un 3x3 perfetto non ci possiamo nemmeno sbagliare facciamo così 1 2 3 1 2 3 mi servono altri blocchi eccoli qua tatata o le poi se non sbaglio ci va l'iron facciamo in mezzo in teoria e facciamo tataccate vediamo ah ci dobbiamo buttare qualcosa un ender pearl ok ender pearl no leviamoci questa dalle mani ender e anche pop pearl ce n'abbiamo giusto qualcuna ce n'abbiamo giusto qualcuna oh lo sta facendo raga perfetto oh guardate qua che figaggine guardate 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 qua come si impizzolisce e l'ha fatto raga oh questo è il primo è il primo insomma il modo allora dobbiamo fare altri pure quelli di gold qua qua che ci chiede no niente ci chiede solo questo ok facciamo il secondo così ci riportiamo tutti e vediamo qual è quello che ci serve a noi allora facciamo il secondo anzi facciamo una cosa abbasso questo che è più è meglio no per ogni volta dobbiamo arsarci di un blocco li abbasso velocemente ok quello di gold è fatto adesso dobbiamo fare questo che è un 5x5 ok ne ho ricraftati un paio facciamo un 5x5 1 2 3 4 e 5 2 3 4 e 5 se non sbaglio dobbiamo lasciare vuoto al centro ma vediamo un po vediamo un po 2 2 3 4 e 5 fino a 5 so contare raga incredibile ma vero vediamo tattacche de vediamo se possiamo fare con la con la mundo se no in volta vediamo un po tattacche de e possiamo per-fect 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 diciamo tattacche de tattacche e vediamo un po ne servono altri e ci serve l'enderpearl oh funziona raga funziona ok li faccio tutti sono arrivati qua lo devo fare questo qua e quest'altro Li facciamo un po' tutti e vediamo un po' Ok raga mi ero scordato di premere il tasto di registrazione Comunque qua ho messo un ender chest Che adesso lo andremo a colorare Penso con i lapis Eccoli qua Facciamo un lapis E lo facciamo Ok blu Questo ci piace blu Poi c'è qualcosa che dobbiamo posare Posiamo anche questo che non ci serve E basta Quest'altro ci servono tutti Allora il primo era Qual era il primo raga Ricordato me lo vuoi qual era il primo Allora vediamo un po' qual era il primo Compact Era quello in iron Ok Quello in iron Questo qui Ho fatto anche i fluid Ho fatto questo Ho fatto anche le tank Vabbè ho fatto i crafter Che ce ne serviranno Ok Leviamo questi Perché questi fanno un po' l'agga Facciamo così Cioè in teoria non fanno l'agga Però mi piacerebbe più Tenere lì là dentro In modo Mi piace di più Mettiamo la cobblestone A chi dentro Olè Perfetto Sto registrando E questa cosa Sono orgoglioso Facciamo Tacchete E facciamo Tacchete Olè E siamo dentro In teoria Vediamo quanto ci metterà a caricare In teoria non dovrebbe essere grandissimo Infatti non è grandissimo Ma per noi ci basta Ci basta Allora crafter Allora lo mettiamo Lo mettiamo Qua Giusto Ma gli serve energia Ma l'energia Noi abbiamo questi cosi qua Anzi no Questo lo leviamo Lo mettiamo Uno qua Uno qua E uno qua Vediamo Ok L'energia C'è là Perfetto Questo qua dentro non funziona Giusto No Non funziona Perfetto Perfetto Mettiamo Ci serve Ci serve Ci serve Mettiamo Qua Sì Ok Poi se ne facciamo un altro Forse era meglio Ma va bene Va bene così Poi ne aggiungo io uno Facciamo Tutta Tacchete 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 E qua facciamo a tutti Extract Le Vedrete bene Presta Cosa serve Stact Extract Realmente questo mondo Ragazzi Non ci fa allargare Perché è tipo un mondo a parte Non so specificamente C'è com'è Lo facciamo Insert Qua dovrebbe entrare la cobla Se noi adesso Gli diciamo Che è così E ora le dobbiamo fare Tacchete E facciamo Applica Ok E questo adesso La trasforma tutta No Extract Int Dentro Lo devi mettere qua Ok Niente Non lo vuole mettere là Ok Se noi adesso Con questi Gli diciamo Nel secondo Gli diciamo Fai Tacchete E facciamo Int E lo mettiamo dentro Facciamo applica E ci craft Il numero 2 Giusto Poi Allora Facciamo il terzo Con la double Se facciamo Double E facciamo Una tripla L Adesso Facciamo La double La triple No La quattrople Facciamo Interno Interno Quattrople Allora ci serve La triplo Eccola qua Facciamo Tatacchete E facciamo Applica Perfetto E fino alla quattrople Ci stiamo Allora la quintuple La quintuple La quintuple Tu mettete qua Ok la quintuple Diventare Sestuple La facciamo Quintuple Sestuple Settuple Quindi ci serve Una sestuple Sestuple Eccola qua Facciamo Una sestuple Interno Settuple Ok E speriamo Che ci riesce a farla Mica lo so Ok Fatto Tutto L'ultimo Deve fare Extract Perfettissimo Giusto Poi mettiamo Questo coso Lo mettiamo Qui Lo coloriamo Ovviamente Di blu Esatto E poi facciamo Qua facciamo Extract E qua Facciamo Insert Ok Scopriremo Presto Se funziona Raga Perché in senso Se non Non riesce Se non finisce Di craftare In senso Come cacchio Le manda Ne lo so Ne lo so Ne lo so Ne lo so Possiamo uscire Di fuori Basta che facciamo Tatacchete Perfect 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 E primo E' stato fatto Adesso Riprendiamo Lo zaino No Questo è Quello Sbagliato Ok Prendiamo Questo qua Large Il large Lo mettiamo Qui E qua Che cosa Ci possiamo Fare Ci mettiamo Tutte queste Farmine Vediamo Prima Quanto è Grande Vediamo Un po' Vediamo 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 No Questo è Troppo Troppo Piccolo No Non ci Basta Non ci Basta Dovremmo Andare Con quello Di smeraldo Direttamente Eh già Eh già Quello di smeraldo Vediamo Un po' Qual è Dobbiamo Andare Direttamente Penso Con questo Vediamo Un po' Leviamo Questo Ah ragazzi Così Mai romperli Mi raccomando Dove Messo Le cose Facciamo Vediamo 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 Questo è Abbastanza Grande Per farci Le farm Perfettissimo Perfettissimo Allora Facciamo Tac 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 Ok Credo Che così Chi basta E gli avanza Ci siamo Scordati Così Per Legaline Legaline Allora Usciamo Fuori E facciamo Le rust Allora Le rust No Tutti qua Facciamo Rust Ci serve Questo Cosa qua Vediamo Se possiamo Farlo Ne Possiamo Fare Un bel po' Un bel po' Un bel po' Non ci siamo Scordati Niente A meno Che Non ci sia Cioè Anzi No Dobbiamo Fare Il Lava Generator Cioè Il Generatore Per la Corrente Generator 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 Questo Il Dobbiamo Fare Questo E No Siamo A posto Ne Facciamo Più Di Uno Poi Facciamo Tatacate E Tatacate E Ne Facciamo Più Di Uno Tu Metti Di Dentro E Ne Facciamo Tutti Quelli Che Possiamo Fare Facciamo Tacate E Facciamo Tacate Ci Serve Altra Lava Altra Lava Abbiamo Fatto Pure La Queste Lava Ok Ci Abbiamo Questo Come Lava Cioè Meglio Di Così Si Muore Tatacate Prendiamo Il Secchio E Facciamo Taratacate E Ci Serve Anche Questo Ovviamente Vabbè Li Faccio Tutti Ragazzi Ci Vediamo Tra Pochissimo Tra Pochissimo Ok Finino Abbiamo Fatti Otto Perfetto Ci Serviranno Anche Quelli Dell' Energia Energy E Taratacate Perfect Adesso Penso Che Possiamo Smontare Questa Farm E Qua Ci Divertiremo A Smontarla Qua Veramente Ci Divertiremo Però Vorrei Smontarla Tutta Tranne Questi Così Questi Qua Ok Ragazzi Smontando Tutto Adesso Ci Manca Giusto Un Po Di Dort Questo Qua Facciamo Dort E Ne Prendiamo Uno Stack Dovremmo Aver Tutto Quindi Facciamo Tatacate E Tatacate Ed Eccoci Qua Eccoci Qui Questo Possiamo Fare Così Sperando Che Funzione Oltretutto Perché Non Saprei E Ho Sbagliato Sono Uscito Sono Deficient Sono Deficient Allara 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 Ok Eccoci Qua Facciamo Do Sta Questa Borsetta Non Lo So Questo Ok Questi Non Ci Servono Tutti Sti Seed Ci Serviranno Ovviamente I Fluid Eccoli Qua Ok Vediamo Adesso Anzi No Ci Serve La Gallina La Gallina La Gallina Della Lava Perfetto Ok Queste Le Mettiamo Tatacate Tatacate E Tatacate Sperando Che Funzioni Che Funzioni Abbiamo Fatto Niente Raga Non Funziona Quindi Facciamo In un Altro Modo E Ci Facciamo Il Crucible Allora Crucible No Sì Crucible Ci Dobbiamo Fare Questi Qua Per Forza Per Forza Per Forza Ma Per Fare Questi Raga Alvoro Li Faccio Tutti Io Ci Vediamo Tra Pochissimo Ok Fatto Tut Il Necessario Possiamo Ritornare Dentro Perfetto Sorta Raga Funziona Al Cento Per Cento Per Cento Per Cento Allora Facciamo 1 2 3 4 Si 4 Bastano Facciamo 5 Non se Ne parla Più Facciamo Tatacate E Fino A Qua Ci Siamo Item Ovviamente Facciamo Tatac 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 Facciamo Insert A Tutti Insert A Tutti Poi Prendiamo Il Cobblestone Generator E Speriamo Che Li Mette Direttamente Tutti Là Dentro Ma Facciamo Extract Vediamo Un po Ok Li Mette Tutti Dentro Raga Li Mette Tutti Tutti Dentro Perfetto 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 Poi Mettiamo Tatac 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 Abbiamo 5 Così Generator Mettiamoci Anche Questi Le Esattili E ci Serve Tu Cacchio L'ho Messo Qua No Sbaglio Sempre Cosa Questa Non ci Serve Ok E Brutta Ci Mettiamo Questa Qua Una Small Una Questa Qua Piccolina No Piccolina Ancacchia Ho messo Quella Grossa Tu Farai Qua Qua Farai Insert E qua Facciamo Tutti Extract Extract Anche Tu Extract Anche Tu Extract Anche Tu Extract Anche Tu E Fino A qua Non ci Piove Poi Mettiamo I fluidi Tac 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 Facciamo Ovviamente Sempre Il Perfetto In teoria Questo Coso Ci dovrebbe Procurare Energia Vediamo Esatto Esatto Energia Ci siamo Parate qua Che figata Perfetto No Questo riceve Tutta l'energia Non è male Raga Non è per niente Per niente Malaccio Per niente Per niente Ok Mettiamo Questi Tutti In senso Dobbiamo Rifare La stessa Farm Abbiamo Fatto Di là Purtroppo Sono cose Che brutte Ma che Vanno Fatte In senso Cioè 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 No Avete Capito Ok Raga Ho Fatto Tutto Mestri Semi L'ho Collegato John Lander Chest E niente Cosa Tutto A posto Allora Adesso Andiamo All'altra Parti E Vediamo In senso Se La roba Arriata Dentro La Ceste Che Abbiamo Messo Inizialmente Qua Dentro Vediamo Siamo Pronti 3 2 1 Esatto Arriva Tutto Perfetto 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 Adesso Facciamo Un'ultima Cosa Intanto Stava La Possiamo Levar E Ok Fino A qua Non Ci piove Ma Dovremmo Fare Anche Altri Energy Conduit Comunque Energy Infatti Non ce l'ho Facciamo Altri Conduit Al volo Da Tacche Questi Qua E Facciamo Tacche Perfetto 24 56 Bastano Item Ce l'abbiamo Stiamo A posto Adesso Insieme A voi Volevo Provare Una cosa Se si Può Fare Non Lo So Watch Eccolo Qua Vediamo Se l'avevo Messo Un'auto Crafting What No Facciamo Ah No Non devo fare Il watch Dovevo fare La safari net Raga Vediamo Un po' Se l'ho messa Safari No Non l'ho messa In autocrafting Va bene Va bene La mettiamo Ora La safari net Taratac Obsidian No Facciamo Questo Come si fa Con questo E con questo Facciamo Tacche E questo Siamo a posto Poi Ritorniamo Qua Ritorniamo Qua Ritorniamo Qua E facciamo Tatacchete Siamo pronti Raga Per vedere Se funziona Vediamo Questo E questo Siamo a posto Torniamo sopra Ok Vediamo Se si può fare La filosofia Stone Raga No Vabbè Guardate Qua Ma tutto Questo Lo vedrete Nella prossima Puntata Bye Bye Ciao 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 Ragazzotti Il video È finito Mi raccomando Guardatevi Video Random E video Consigliati E iscrivetevi Mi raccomando Se vi siete già visti Questi video Ci vediamo domani Con un bellissimo video Ciao Ciao Un bacione Ciao Ciao Ciao